Ma questo è il servizio pubblico per il quale noi paghiamo una tassa annuale chiamata canonerai? E' servizio pubblico quello che ti presenta un Adriano Celentano che conciona su tutto e di più, in mezzo ad infinite banalità, recitine tipo parrocchiale con interventi di Morandi e di Pupo che dicono le loro cosine presentandosi come se dicessero chissà che, ma diamine. Diamine, se la RAI vuole comportarsi come una TV privata, se la RAI vuole fare del trash ma si privatizzi, caro Presidente del Consiglio Monti, privatizziamo questa RAI, così perlomeno gli italiani risparmieranno di pagare una tassa e perlomeno non avremo questo fasullo servizio pubblico che si chiama RAI. Grazie a tutti.